Il corso accademico di secondo livello in multimedia Arts in Design di Rufa Rom University of Fine Arts intende creare delle figure professionali che corrispondano al nuovo contesto artistico e culturale, trasmettendo conoscenze e competenze specifiche che vertono fondamentalmente sulla progettazione multimediale e sull'audiovisivo. I ragazzi progettano con noi, abbiamo un'infarinatura iniziale di spunti, cerchiamo di carpire quella scintilla che potrebbe poi diventare qualcosa di più grande, quindi li seguiamo proprio dal punto zero alla realizzazione definitiva. La cosa interessante che la Rufa ci ha messo a disposizione a noi è quello di coinvolgere i ragazzi già in un ambito professionale, quindi loro hanno modo di stare al fianco di professionisti internazionali da tutta Europa e sono al pari tutti gli altri artisti. Studiare in Rufa per me significa stare in un ambiente molto stimolante. Abbiamo dei docenti e un'organizzazione che ci dà la possibilità di sperimentare e di utilizzare delle tecnologie che altrimenti non potremo utilizzare. C'è un'atmosfera molto friendly e familiare in Accademia, posso davvero instaurare un rapporto one to one affinché si possa raggiungere i main goal che ci siamo prefissati. Grazie. 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 Grazie.